La Naomi's Band e tutto il locale vi danno un caro roso benvenuto a questa serata che si annuncia fantastica! Perché sarà fantastica? Ma perché ci siete voi! Ehi carico! Balla al barracuda! Hai già fatto polpa? Ma chi? Quello! Scusami! T'avevo preso per un cameriere! Scusa! No ma di che? Non c'è niente di male, signora! Come signora? Signora a me? Ma mai visto? Non è che ti serve un passaggio per caso, però ho il furgone! Non ce l'ho mai salita sul furgone! Poi Oscar Wilde diceva la stessa cosa tua, perché diceva che la felicità non è avere ciò che si desidera, ma desiderare quello che uno ha! Bella! Mi è piaciuta! Oh, non so chi sia su Oscar Wilde, ma io qua dentro voglio fare il capo cameriere! Lo sai in quale guaio ti stai per cacciare, vero? Se vedo che baci un altro io l'ammazzo! Guarda dintorno, guarda quanti uomini ci stanno! Quei seccoli che c'ha che non va! C'è pure un bel lavoro, far centralista all'Inps! E' un lavoro! Tre giorni a settimana, dalle 18 e tre del mattino, senza pausa, paga bassa, mance poche, niente contratto! E i contributi? I pagate? No! Preso! Vabbè, che se ti va male come cameriere puoi sempre ripiegare sulla laurea, però siamo ottimisti! Io invece sono fortunato! Cazzo, Sebastiano! Io ti sto scaricando e tu fai il premuroso! Ma fa qualcosa, mandami a cacare! Perché dopo ci sarà un cambiamento, un cambiamento importante, vedi, simbolizzato dalla carta della morte! Quindi la morte non è la morte? No, questa è la morte come rinascita, come cambiamento, no?